Questo video è realizzato in collaborazione con il sito di Oroscopo Multimediale, che offre previsioni accurate e personalizzate. Scoprite il vostro oroscopo del giorno e molto altro ancora, visitando il link in descrizione. La promessa. Anticipazioni di sabato 17 e domenica 18 agosto 2024. La Marchesa convoca Petra e Feliciano per scoprire perché il sergente Funes li stia cercando. Petra afferma di non sapere nulla al riguardo, ma Cruz è preoccupata per la possibile cattiva reputazione della famiglia e i problemi legali che potrebbero sorgere con il personale di servizio. Petra la rassicura, dicendo che si occuperanno del sergente in modo che non disturbi i membri della nobiltà. Feliciano, però, è visibilmente turbato, e non riesce a parlare. Tornati nell'area di servizio, Petra cerca di convincere Feliciano a negare tutto al sergente Funes, ma Feliciano insiste nel voler dire la verità. La sera, la famiglia intrattiene Mr. Cavendish, il quale inizia a conoscere i vari membri. Imena arriva vestita e truccata in modo provocante, e si presenta a Cavendish. In cucina, Simona è abbattuta, e confida a Candela che è preoccupata per Valentin, che non sembra intenzionato a contattare Antonito per invitarlo alla promessa. Candela cerca di rassicurarla, dicendo che presto vedrà suo figlio, mentre Valentin ascolta la conversazione. Nel frattempo, Imena inizia un discorso inappropriato sulla moda femminile con Cavendish, ma quando viene interrotta, esplode in insulti verso Catalina e Margarita, tanto da dover essere allontanata a forza. Margarita e Pelayo si scusano con Cavendish per l'accaduto. Poi, quando Mr. Cavendish si allontana, Margarita informa Pelayo che a palazzo vi è la guardia civile, preoccupandolo. Più tardi, Valentin, dopo aver sentito Simona, decide di scrivere ad Antonito per aggiornarlo sulla promessa, rendendo Simona speranzosa. In camera di Imena, Abel e Ana cercano di calmarla, ma Imena è confusa, e non ricorda perché ha litigato con Catalina e Margarita. Abel confessa a Ana di essere incerto su come gestire la situazione di Imena, e che potrebbe aumentare la dose del farmaco, pur non essendo uno specialista in problemi mentali. Curro e Martina discutono dei pro e contro di studiare in Inghilterra, ma Curro ammette che preferirebbe restare con Martina, se lei glielo chiedesse. Abel, Catalina e Margarita raccontano ai marchesi della scenata di Imena davanti a Cavendish. Tutti concordano che Imena debba essere visitata da uno specialista, anche se Abel avverte che potrebbe essere necessario un ricovero, se lo specialista lo ritenesse opportuno. Alonso suggerisce di informare i genitori di Imena, ma Cruz si oppone, affermando che prima devono consultarsi con Manuel, sperando che lui torni presto a casa. Mentre Curro e Martina continuano a parlare dell'Inghilterra, Margarita e Ana li interrompono per portare una tisana a Martina, notando che sta lentamente migliorando. Merito che Margarita attribuisce a Curro. Salvador ritrova nella sala cucito la benda che portava su un occhio malato, e questo risveglia in lui una serie di ricordi. Maria arriva poco dopo, e Salvador le confida di sentirsi fortunato ad aver trovato una famiglia alla promessa, aggiungendo che tra tutti, Maria è la persona più importante per lui. Nel frattempo, Pia e Mauro sono nella stanza di Romulo, dove discutono del comportamento di Imena con Mr. Cavendish, e Romulo è dispiaciuto di sapere che Imena non stia migliorando. Mauro, poi, chiede un consiglio a Pia e Romulo, riguardo alla degustazione delle marmellate che dovranno preparare per Cavendish, e Romulo gli suggerisce di parlare con i cuochi, affinché preparino qualche pietanza da accompagnare ad ogni marmellata. Più tardi, Margherita, Cruz e Catalina stanno giocando, e parlano di Martina, che ultimamente sembra più allegra. Margherita attribuisce nuovamente il merito a Curro, ma lui, imbarazzato, minimizza il suo ruolo e si allontana. Dopo che Curro si è allontanato, si unisce al loro pelaio, e Margherita chiede della Guardia Civile. Cruz spiega che la Guardia Civile è venuta per parlare con uno dei membri del servizio, e che non vuole che Cavendish ne venga a conoscenza. In sala da pranzo, Martina e Pelaio aspettano l'arrivo di Cavendish. Pelaio è preoccupato che Cavendish noti la presenza della Guardia Civile a Palazzo, temendo che ciò possa compromettere i loro affari, ma, anche se Catalina non comprende del tutto il ragionamento di Pelaio, lo rassicura che la Guardia Civile sarà discreta. In quel momento arriva Cavendish, e dopo che Catalina gli ha presentato i vari piatti, si prepara a degustare le marmellate. Catalina raggiunge Imena in sala, e cerca di farle capire che tutti desiderano la sua guarigione, e che deve cercare di controllare i suoi scatti d'ira e gli attacchi di nervosismo. Tuttavia, Imena accusa Catalina di essere ipocrita, sostenendo che tutti la considerano pazza, e vogliono solo allontanarla da Manuel e mandarla in un sanatorio. Nonostante gli sforzi di Catalina per farle cambiare idea, Imena rimane convinta del contrario. Mauro si complimenta con Geronimo per il lavoro svolto, ma Geronimo risponde che non ha bisogno di complimenti, poiché è lì solo per servire Pelaio, e si allontana lasciando Mauro perplesso. Mentre Maria prende un caffè con alcune colleghe, arriva Valentin che le regala un mazzo di fiori, riempiendola di complimenti. Maria, comprendendo le intenzioni di Valentin, decide di parlare seriamente con lui. Infine, Lorenzo discute dell'Inghilterra con Martina, Margarita, e Curro, ma Curro sembra assorto nei suoi pensieri. Quando Lorenzo gli chiede a cosa stia pensando, Curro annuncia di aver cambiato idea. Non vuole più partire, e desidera rimanere alla promessa. Lorenzo si infuria quando scopre la decisione di Curro, lamentandosi di aver fatto l'impossibile per farlo accettare nel prestigioso college inglese. esige una spiegazione, e Curro gli risponde semplicemente di aver cambiato idea. Le grida attirano l'attenzione dei marchesi, e quando Cruz viene informata della scelta di Curro, si arrabbia, insistendo che debba andare in Inghilterra per il bene del suo futuro. Alonso, però, non è d'accordo, e sostiene che nessuno può obbligare Curro a partire contro la sua volontà, dato che è ormai adulto, e capace di prendere le proprie decisioni. Nel frattempo, Maria decide di essere franca con Valentin. Gli racconta di Lope e Salvador, spiegandogli che per lui non prova, e non proverà mai nulla di più di una semplice amicizia. Valentin le risponde che, se adesso sono amici, in futuro le cose potrebbero cambiare. Ma Maria è irremovibile, e ribadisce che può offrirgli solo amicizia. Valentin, però, sembra non voler accettare la realtà, e fa orecchie da mercante. Teresa, intanto, raggiunge Feliciano nella sala da cucito, dove lui le racconta ciò che la Marchesa e Petra gli hanno detto riguardo all'interrogatorio della Guardia Civile. Sebbene Feliciano sia quasi deciso a dire la verità, Teresa lo rassicura, dicendogli che sarà al suo fianco, qualunque cosa accada. Alonso e Cruz hanno un'accesa discussione su Curro. Cruz non riesce a comprendere come Curro possa rinunciare al suo futuro, ma Alonso insiste che Curro è un adulto, e ha il diritto di prendere le proprie decisioni. Cruz, notando che Alonso difende Curro, cerca di farlo sentire in colpa per non passare abbastanza tempo con il loro figlio Manuel. Ma Alonso risponde che passa molto tempo con Curro per colmare il vuoto lasciato da suo padre, e ribadisce di non aver mai trascurato Manuel, essendo sempre presente per lui. Ana e Abel aiutano Romulo a tornare in camera dopo una passeggiata. Abel è felice di vedere Romulo riprendersi, e Romulo riflette sul fatto che non avrebbe dovuto nascondere la sua malattia, dicendo di aver imparato la lezione. Propone ai due ragazzi di andare a teatro a sue spese come ringraziamento, ma Ana trova una nuova scusa per rimandare l'invito. Nel patio, Feliciano e Salvador discutono di Valentin, quando quest'ultimo arriva e si unisce a loro per qualche minuto. Feliciano gli dice che tutti sanno dei fiori che ha regalato a Maria, e Valentin ammette che Maria gli piace, e che è convinto che anche lui piaccia a lei. Anche se forse è troppo timida per ammetterlo. Comunque, essendo entrambi single, intende continuare a conquistarla, nonostante Salvador fatichi a trattenere la gelosia. Nel tardo pomeriggio, Catalina, Curro, Martina e Imena giocano a un gioco da tavolo, poi si prendono una pausa per bere il tè, e decidono di uscire a cena per prendere un po' d'aria. Tuttavia, Imena ha un altro dei suoi attacchi, pensando che vogliano allontanarla da Manuel e dalla promessa, e se ne va, convinta che tutti siano contro di lei. A colazione, Mauro si presenta dai marchesi per assicurarsi che tutto sia a posto. Cruz ne approfitta per chiedergli di prestare particolare attenzione alla posta, poiché stanno aspettando una lettera da Leonor, che presto tornerà a casa, e Mauro fatica a trattenere le emozioni alla notizia, ma cambia subito discorso, e informa Alonso dei miglioramenti di Romulo. Infine, Cruz si lamenta nuovamente della scarsa qualità dei cibi in cucina. Nonostante Mauro cerchi di spiegarle che i piatti eccellenti erano di Lope, la marchesa non vuole sentire ragioni. Mentre Geronimo sta uscendo dalla promessa, viene intercettato da Margarita, che indaga sul suo rapporto con Pelaio, definendolo molto particolare. Geronimo spiega che, dopo tanti anni al servizio di Pelaio, hanno sviluppato una grande fiducia reciproca, specialmente dopo la morte dei genitori di Pelaio, e del grandioso funerale, a cui avevano partecipato molte persone. Abel raggiunge Anna in cucina mentre sta preparando la colazione per Imena, e le chiede di trovare qualche minuto per parlare della loro relazione, e della situazione in cui si trovano. Anna, però, gli ribadisce che si sente sotto pressione e soffocata dalla sua insistenza, chiedendogli del tempo per riflettere. Gli promette però che ne parleranno più avanti. Nel frattempo, Margarita entra nel salotto dove Pelaio sta leggendo il giornale. Trova una scusa per avviare una conversazione, ricordando quanto suo marito Fernando amasse leggere le notizie locali, e quanto senta la sua mancanza. Pelaio, a sua volta, le confida che anche lui sente la mancanza dei suoi genitori, e i due si confrontano sui funerali dei rispettivi cari, e Pelaio menziona che per i suoi ha organizzato una cerimonia intima. Margarita, però, nota subito una discrepanza tra ciò che ha detto Geronimo, e ciò che ha appena affermato Pelaio riguardo al funerale dei genitori di quest'ultimo. Poi, gli chiede perché fosse così nervoso quando ha saputo dell'arrivo della Guardia Civile alla promessa, e se stia nascondendo qualcosa, ma Pelaio nega, affermando di essere stato solo sorpreso. Successivamente, Anna porta la colazione a Imena, che non sembra aver dormito bene. Durante la chiacchierata, Imena confessa a Anna che per un periodo era stata gelosa di lei, perché credeva che Manuel la guardasse con desiderio, un sentimento che non provava per lei. Tuttavia, alla fine si era resa conto che quello sguardo era solo frutto della sua immaginazione. Anna, visibilmente imbarazzata, le assicura che non poteva essere vero, e poi le propone di fare una passeggiata, e Imena accetta, e chiede a Anna di accompagnarla, e quest'ultima consente. In cucina, Simona, Candela, e Teresa, discutono dello scontro avvenuto tra Imena, Catalina, e Martina, la sera della presentazione di Mr. Cavendish, e di come Imena sembri fare scelte sempre più insensate. Nel frattempo, Geronimo ascolta tutto in silenzio, con un'espressione cupa. Curro va nello studio di Alonso per restituirgli l'orologio che Alonso gli aveva regalato, dato che non partirà più per l'Inghilterra. Alonso, però, gli dice di tenerlo comunque, perché gli sarà utile. Poi, gli propone di diventare il suo assistente negli affari della promessa, e Curro accetta con entusiasmo, felice dell'opportunità. Feliciano si reca nell'ufficio di Romulo, dove lo aspetta il sergente Funes, che gli comunica di aver scoperto nuove informazioni sulla morte di suo padre. Feliciano allora promette di rispondere a tutte le domande che gli verranno poste. Con intenti malvagi, Geronimo si avvicina a Imena, alimentando la sua follia. Le suggerisce che Catalina sta parlando male di lei alle sue spalle, e che sta istigando gli altri a rinchiuderla in un sanatorio. La avverte che è sola contro tutti, ma che lui vuole solo aiutarla a vedere la verità. Imena, convinta dalle parole di Geronimo, si convince che Catalina ce l'abbia con lei e si infuria. Intanto, nell'ufficio di Romulo, Feliciano sta per raccontare tutta la verità al sergente Funes, quando Petra irrompe nella stanza per impedirglielo. Nel salone, Catalina, Cruz, Lorenzo, e Mr. Cavendish, chiacchierano amichevolmente, ma Imena, seduta vicino a loro, ha una nuova crisi. Accusa Catalina di ritenerla pazza, e di avere l'appoggio di tutta la famiglia, arrivando a minacciare di ucciderli tutti. Terminano così queste anticipazioni. Io sono Desi, e se volete, vi invito a iscrivervi al mio canale, per non perdervi i prossimi video. Un abbraccio, e ci sentiamo nei commenti, con i vostri pareri sulla puntata.